Il 16 gennaio 2003 lo Space Shuttle Columbia parte dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center per la sua ultima missione. 28 missioni per un totale di più di 300 giorni di volo, circa 200 milioni di chilometri e quasi 5.000 orbite intorno alla Terra. Come gli altri shuttle, il Columbia è formato dall'Orbiter, in questo caso denominato OV-102, che è lo spazio per l'equipaggio e il carico, da due razzi a propellente solido, che si staccano due minuti dopo il lancio e vengono recuperati in mare, e da un grande serbatoio esterno, contenente ossigeno e idrogeno liquidi, che si stacca circa 9 minuti dopo il lancio ed esplode in atmosfera. Ma in quel giorno, durante il lancio, qualcosa va storto. Un frammento di schiuma isolante del serbatoio esterno colpisce l'Orbiter. Nessuno se ne accorge, e il Columbia riesce a raggiungere l'orbita dove rimane per 17 giorni. La mattina del 1 febbraio 2003, data prevista per il rientro, quando il Columbia si trova a circa 62 chilometri sopra i cieli del Texas, si interrompono le comunicazioni. Durante il rientro in atmosfera, del gas surriscaldato penetra nello shuttle e ne causa l'esplosione. Tutto l'equipaggio, formato da sette astronauti, muore nell'incidente. Il danno all'Orbiter Columbia, provocato durante il lancio, viene poi considerato la principale causa della tragedia. Ländra Scまたta Rial miro Ello Stefan Rial miro Insnosfera